Solo venerdì scorso, sulla Statale 16 a San Benedetto, si consumava un incidente mortale, nel quale ha perso la vita Erminio Cerreti. Ieri sera però, dopo appena quattro giorni, la strada ha mietuto un'altra vittima, il 73enne Pietro Lazzari. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 in piazza San Giovanni Battista. Proprio mentre l'anziano stava tornando verso la sua abitazione in via Montebello, una Suzuki, guidata da una donna di 69 anni, l'ha investito. I testimoni che hanno assistito alla scena raccontano che l'impatto è stato spaventoso. In quegli istanti pioveva, la strada era buia e la donna al volante dell'auto non ha visto l'anziano che era in procinto di attraversare. Dopo l'urto, la donna è corsa assieme ad altri passanti al capezzale dell'uomo, dando l'allarme al 118. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno cercato di salvare l'anziano che ha riportato fratture e traumi vari, in particolare alla testa. Tutte lesioni gravissime che sono risultate fatali. L'uomo infatti è morto durante il trasporto al Madonna del Soccorso. In piazza poi sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri che hanno proceduto ai rilievi del caso e che ora stanno ricostruendo la vicenda nei minimi dettagli, giacché la posizione della donna dovrà essere posta al vaglio della magistratura. L'investitrice in forte stato di sciocca ha spiegato di non aver visto l'uomo a causa della pioggia incessante, della nebbia e della scarsa illuminazione della piazza. Pietro Lazzari era nato 73 anni fa a Grotta Mare, ma da molto tempo era residente a San Benedetto in via Montebello, a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente fatale. Inevitabili le polemiche e le considerazioni che la tragedia ha innescato. In molti infatti hanno sottolineato la pericolosità delle piazze Garibaldi e San Giovanni Battista, dove il traffico è elevato e dove transitano fin troppi pedoni a pochi metri di distanza dalle auto in corsa.